Preghiera allo Spirito Santo per la pace in famiglia O Spirito Santo, tu che nelle Sacre Scritture sei stato simboleggiato come vento, che trae dall'arpa e olia armonie di una dolcezza di paradiso, fa che torni l'armonia di pace nella famiglia che caldamente ti raccomando. Cessino tra i suoi membri la superbia, l'invidia e la gelosia, e vi regnino sovrane la mutua comprensione, la pace e la letizia. Siano essi familiari, sempre pronti ad ogni rinuncia e sacrificio per ottenere la pace, profondamente compreso che questa per una famiglia vale più di ogni ricchezza. Amen Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Grazie a tutti